Dall'elaborato computo è possibile, cliccando il tasto CTRL più il clic del mouse, selezionare una voce di computo e vedere sul livello evidenziati in verde gli oggetti rispetto ai quali quella voce è stata computata. Selezionando invece un rigo di misurazione, viene bordato in rosso l'oggetto a cui quel rigo si riferisce, in questo caso il vano soggiorno. Realizzato il nostro computo, anche effettuando delle modifiche agli oggetti computati, è possibile tenerlo aggiornato dinamicamente. Su questa voce abbiamo computato l'intonaco per questo involucro ed in detrazione sono riportate le aperture. Effettuando una modifica, ad esempio ampliando questa apertura, dinamicamente è aggiornata la dimensione. Nel computo è aggiornata la quantità e è ricalcolato l'importo del computo. Oltre all'elaborato computo abbiamo l'elaborato elenco prezzi e l'elaborato computo selezione. Nel primo abbiamo le voci di epif in cui computate, mentre nel secondo per l'oggetto o gli oggetti selezionati sul livello sono visualizzate le voci computate e le relative misure. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.